Sì, sì, comunque è stata una bella partita combattuta. Non ci giocavamo niente perché noi oramai la salvezza, si può dire che... Non era mai in discussione? No, 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 però... Diciamo che alla fine, tipo, la partita, penso che è stato il risultato giusto nostro. Manca ancora qualche cosa, mister Napoli? Ma, diciamo, per la matematica servirebbero tre punti, ma noi oggi speravamo nei tre punti, non solo per la salvezza, ma perché volevamo regalare qualcosa di diverso a merito sportivo. Purtroppo il risultato non è quello che avevamo programmato. Ci scusiamo con gli sportivi, con il pubblico. Un palo e un calcio di rigore che poteva essere pischiato più o meno. Allora, lasciamo stare le recriminazioni, un palo, un rigore. Secondo me abbiamo fatto uno dei migliori primo tempi della stagione.